Un altro tassello per lo sviluppo di una realtà sempre più multimediale. Giornale Pantheon compie 10 anni e per l'anniversario, festeggiato ieri sera nella prestigiosa location di Villa Arvedia, Grezzana, annuncia con i vertici della società Finval l'acquisizione del brand Radio Adige, la storica emittente veronese che nel giugno scorso aveva cessato l'attività per la vendita delle frequenze. Si aggiunge quindi anche la tradizione radiofonica, le già consolidate attività televisive, in collaborazione con il gruppo editoriale TV7 e all'attività mensile di approfondimento con Giornale Pantheon. Una novità che rientra nel piano industriale 2018-2020 di Finval, che oggi ha sottoscritto un importante aumento di capitale destinato a rilanciare un innovativo progetto di comunicazione digitale. Abbiamo in Sarbo per il 2018 parecchie novità, una tra le principali è senz'altro l'acquisizione di uno storico brand radiofonico, Radio Adige, che non potevamo lasciare cadere un po' nel dimenticatoio dopo la dismessa delle frequenze e delle trasmissioni. Lo abbiamo acquisito e lo rilancieremo con un progetto multimediale proprio a partire dal 2018.